Auguri! Tua moglie è fiamma? Fiamma non viene! Bomba! La tua ragazza viene o no? Mi ha lasciato per un altro. C'è sempre un altro. C'è nessuno? Ma chi è quella? È da tempo che volevo fare. Tu hai dei problemi con fiamma? Lei vuole un figlio e io no. Manca la materia rima. Ho capito? Ma io posso dare una mano, no? Tutte le volte che ti vedo capisco come mai ti ho lasciato. È colpa tua! Dici anni fa sei tu che te ne sei andata? Chiudiamo Martina! Chiudiamo! Chiudiamo! Angliccia fermati! Lorenzo? Io non sono come voi! Amarsi per sempre è difficile. Lasciarsi per sempre è impossibile. Lasciami per sempre. Dal 20 aprile al cinema. Scusate, mi sono perso, ma... qualcuno può fare un riassunto, per favore? Qualcuno può fare un riassunto, per favore? Un riassunto, per favore. Un riassunto, per favore! Un riassunto, per favore. Un riassunto, per favore. Grazie.